C'è Ferrimarini pronta a intervenire, Ferrimarini di testa, anticipa l'avversario, ancora Ferrimarini, Ferrimarini la palla per Ferrimarini che segna! Il 3 a 0, l'ha fortemente voluto, l'ha fortemente voluto, il 3 a 0 al 44esimo, è andata a rubare palla, ha superato un avversario, si è messo la palla sul sinistro e sul primo pallo ha freddato il portiere. Daniele Ferrimarini, 15esimo gol stagionale. E' una frustata per il Gubbio che al 13esimo raddoppia, ancora sugli sviluppi di un corner, Marini colpisce di testa, tiro ribattuto, croce di controbalzo, la mette dove Bertolacci non può arrivare per il 2 a 0. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!